allora mister una partita giocata così a varia di emozioni giocata al piccolo trotto diciamo in questo senso no comunque la serre si ha cercato di tamponare le incursioni le opo le escursioni del di questa del badolato sì sono benedetto d'accordo con lei è un campo difficilissimo fare punti sicuramente la classifica lo dimostra loro sono vicini ai playoff noi siamo in piena lotta play out è un punto che sicuramente ci dà morale siamo venuti qua per non subire soprattutto in quanto veniamo da un recupero dove abbiamo preso quattro golle precedentemente la domenica anche abbiamo presi quattro golle quindi oggi siamo venuti ben accorti per fortuna ci siamo riusciti e sono soddisfattissimo del lavoro che hanno fatti i ragazzi anche perché la prossima partita mi pare che sia col col monte paone quindi una squadra abbastanza ostica vero sì prima del monte paone però ci sta l'ultimo recupero da fare come come sa serra nevica spesso mercoledì giochiamo col chiaravalle ed è uno scontro diretto per la salvezza dirigiamo in casa e speriamo di continuare su questa scia su questo risultato positivo che da da molto mare infatti morale i ragazzi infatti sono contentissimi di aver fatto questo punto che muove nuovamente la classifica vedremo nelle prossime settimane vedremo sicuramente daremo sempre il massimo grazie mister allora mi rendo conto che questa partita non soddisfa in pieno le le aspettative del badolato è stata una partita così giocata con poca determinazione non poca determinazione veramente eravamo nervosi non lo so il motivo comunque devo fare i complimenti alla serresa perché ha lottato per tutti 90 minuti noi oggi eravamo sotto tono non so il motivo perché eravamo nervosi senza senza motivo va allora prepariamo infatti la partita per il san calogero della di domenica prossima quindi sì il san calogero dovrebbe giocare a porte chiuse non lo so di sicuro perché avevo letto che forse del campo squalificato e devono giocare a porto chiuso oppure solo a porto chiuso e noi prepariamo la partita a san calogero andando a fare cercando di fare risultato c'è da potenziare qualcosa nella squadra a livello di difesa oppure di centrocampo veramente abbiamo delle migliori difese del girone dobbiamo essere un po più cattivi sotto porta perché oggi tre quattro occasioni le abbiamo avuto ma non le abbiamo sfruttate non eravamo determinati eravamo sotto tono mi dispiace per i ragazzi anche se sono impegnati hanno dato tutto quello che potevano dare